Bitcoin ha iniziato una fase ribassista e l'analisi ciclica, l'analisi tecnica non è positiva per il re delle criptovalute. Ne avevo parlato anche nella scorsa settimana del fatto che Bitcoin fosse un po' su una polveriera e mi aspettavo una fase di riequilibrio. Ragazzi, quella che sta scegliendo in questo momento è una fase di tentato equilibrio in laterale ribassista. Tutto sommato non è male ragazzi, cioè far passare il tempo, intanto far scendere la difficoltà di mining di Bitcoin e nello stesso tempo un po' qualche vendita in più di Bitcoin da parte anche dei miners e si sta vedendo. La versione invece long ragazzi prevedeva l'impennata sopra i 10.500 che non è avvenuta e dopo un tentativo di break dei 9.800 che era la fascia di supporto Bitcoin è ritornato a 9.500 e in quel punto lì ragazzi tutte le velleità rialziste sono definitivamente finite. Ho indicato tutta la fase di chiusura anche dei long in academy ragazzi indicando intorno ai 9.200 circa la chiusura di tutti i long. Perché? Perché come vedremo oggi in questo video andiamo verso la chiusura del ciclo mensile. Nella chiusura del ciclo mensile di Bitcoin era pericoloso mantenere queste posizioni long ragazzi. Che sia una fase fortemente ribassista non credo e spero non sia così, lo vedremo oggi in questo video. Ma comunque dobbiamo tener conto del fatto che ci sono delle peculiarità in questo momento che portano ad una fase di respiro e di riposo. Cosa che è già avvenuta nella giornata di ieri e è continuata anche oggi, tant'è vero che Bitcoin ha perso il suo supporto a 9.000 dollari in questo momento ed è indirizzato verso una fase ribassista che, vi spoilerò, immediatamente dovrebbe durare ancora qualche giorno. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere i grafici. Prima di fare questo però ragazzi devo chiedervi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi lasciatemi un pollice perché mi aiutate anche con YouTube e fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate di queste analisi e di questa analisi ciclica e analisi tecnica sui mercati. Vi farò vedere anche alla fine una possibilità su Binance di quello che può avvenire anche nel prossimo futuro. Un giochino ragazzi che faremo su una piccola previsione, quindi restate con me anche fino alla fine del video perché ci sarà questa cosa su Binance. E non ho detto bene ciao a tutti, lo dico adesso, bene ciao a tutti, spostiamoci sul grafico. Va bene, allora, siamo davanti il grafico di Bitcoin che teniamo sempre a mente, ormai ragazzi lo conoscete, avete imparato a conoscerlo, è lo stesso che seguiamo da un sacco di tempo. Dove siamo? Perché sto parlando di questa fase ribassista ragazzi? Perché nel momento in cui il mercato, vedete, ha tentato la fase di break dei 9.000 e poi 8.000 e 8.000, poi è ritornato, vedete, di nuovo a 9.300. Qui da questo punto in poi io ho definitivamente chiuso qualsiasi posizione di trading rialzista e in questo momento sono flat ragazzi, non ho aperto short perché non lo ritenevo utile in questa fase e non mi piaceva, ma alcuni in Academy lo hanno fatto, sono già in profitto perché sono entrati short intorno ai 9.200. La fase ciclica è disegnata in maniera molto evidente ragazzi, io vi avevo indicato fine mese di maggio i primi di giugno come close di questo ciclo mensile che è diventato ormai un ciclo ternario ragazzi, quindi un mensile così e poi due fatti in questo modo. Ora il problema è da capire dove possiamo arrivare. E sì ragazzi, perché è vero che questa è una fase di bassista che dovrebbe anche chiudersi tra pochi giorni, due o tre giorni ragazzi, non di più. Poi dovremmo stare attenti, dovremmo capire se effettivamente inizierà un nuovo ciclo o meno, perché ricordate sempre che nelle fasi di chiusura dei cicli poi ne inizia un altro ragazzi, quindi poi dovremmo vedere il successivo se ci darà possibilità di fare ingressi long. Ma al momento cerchiamo di capire dove può arrivare questa fase di ribasso. Tecnicamente ragazzi potremmo avere un bitcoin che va al di sotto di questo minimo. Uno dei miei indicatori di target price, quindi take profit, che ho anche mostrato su YouTube ragazzi con un video, indica che c'è la possibilità in questa settimana che bitcoin vada a scendere sotto gli 8.000 dollari. E un po' mi sento di dirvi che non sembra avere questa debolezza il mercato. Però poi gli indicatori di analisi tecnica ragazzi parlano così. Quindi io vi dico quello che stanno indicando e più o meno c'è una fascia di prezzo che mi ha indicato questo mio indicatore che si chiama Over Volatility Range. L'avevo presentato sul canale poche settimane fa e mi indica appunto questa fascia qui come un'area di possibile fase di minimo. Un po' questo atteggiamento quasi dipinto, quasi disegnato, forse un po' scontato. E anche per questo mi vedete titubante ragazzi, perché io dalla mia esperienza di trading so che i mercati non tanto spesso fanno quello che è così evidente. Quindi attenzione, insomma questa io non sono short, ve l'ho detto, sono flat in questo momento. Però questa è una possibile view del mercato da qui ai prossimi giorni. Da un punto di vista di analisi ciclica siamo in fase di close, la tecnica ci indica una close intorno agli 8000, un po' sotto agli 8000 dovremmo andare. E' possibile, sì, quello che ci interesserà invece sarà proprio la fase successiva. Quindi se avverrà questa fase di chiusura così come la stiamo dipingendo in questo momento, poi andremo a fare una forte riflessione sul ciclo successivo che sarà importantissimo, ve lo anticipo già da adesso. Perciò ragazzi iscrivetevi se non volete perdervi questi nuovi aggiornamenti, se siete come me fixed su Bitcoin, sulle criptovalute, perché saranno dei bei momenti secondo me anche in fase successiva. Per concludere, fase ciclica correttamente impostata in questo ciclo ribassista stiamo andando a fare un minimo. Probabilmente sarà un minimo importante perché chiude due mensili così ragazzi, vedete, due grandi cicli importanti soprattutto perché parta dai minimi di marzo. Il successivo sarà la chiave di volta anche per comprendere il movimento di Bitcoin probabilmente fino a fine anno ragazzi. Quindi pensate un po' cosa stiamo vedendo in questo momento. Andiamo a vedere invece Ethereum, anche lui è in una fase ciclica, come vedete è un ciclo sviluppato così su Ethereum e siamo in attesa di questa fase. Devo essere sincero, Ethereum un po' più forte di Bitcoin in questo momento perché era sceso tantissimo nella fase di marzo. Vedete è sceso veramente tanto rispetto a Bitcoin che si trova praticamente in un doppio massimo con questo livello, però adesso sta reggendo un po' di più anche in questa fase. Per esempio questo ribasso non è stato importante mentre vedete che su Bitcoin ha quasi toccato il minimo del 10 maggio, mentre su Ethereum il minimo del 10 maggio, 11 in questo caso, è ancora un po' più distante. Da un punto di vista di target price di questa fase ribassista tenete sotto stretta osservazione l'area che è questa qui ragazzi, cioè l'area che va dai 180 circa ai 190-200. Quindi questa è un'area che potrebbe essere un'area di blocco di questa fase ribassista su Ethereum, che però vi sto già anticipando, è molto più forte di Bitcoin. Ha una certa forza relativa, perciò si potrebbe anche iniziare a ragionare su Ethereum su un possibile ingresso long al breakout di questo livello ragazzi di resistenza. livello che diventa un nuovo livello chiave, perché abbiamo questa zona a 225 e questa zona a 218. Questa fascia ragazzi diviene una fascia di enorme importanza. Un break di questa fascia secondo me potrà dare grande linfa a questa altcoin e perché no la valuterò anche io, dovesse succedere una cosa del genere, dopo la chiusura di questo ciclo. Passiamo adesso all'ultimo, Binance, volevo farvi vedere una possibilità anche su Binance. Binance nel lungo periodo sta disegnando una curva di inversione da questa fase ribassista che era iniziata a giugno dello scorso anno, quindi è passato un anno ragazzi. Vedete come è questa curva? Solitamente questa fase ciclica indica che il mercato nel lungo periodo in questo caso ha trovato una sua fase di riaccumulo e siccome la cripto di Binance mi piace tantissimo, non so quanto potrà salire perché poi c'è un discorso fondamentale da fare su queste criptovalute, sono degli exchange token, quindi non so Binance quanto voglia tenerla a alta, su questo dovremmo rifletterci. Però io preferisco in questo caso seguire sempre i prezzi perché in questo caso i prezzi ci possono dare un'anticipazione anche di un'eventuale politica magari che Binance vorrà fare un domani di far salire la sua coin. Non lo sappiamo ragazzi questo. Queste sono coin anche fortemente manipolate perché sono di un exchange, quindi sono proprietà di un exchange in pratica ragazzi. Quindi dobbiamo stare un po' di più sull'analisi grafica e ragionare un po' di più su quello che ci dicono i prezzi perché nascosti in questi prezzi ci sono anche delle informazioni molto importanti su quello che vuole e quello che può fare questa altcoin. Allora ancora una volta siamo su una fase di chiusura ciclica, similare molto di più a Ethereum o Binance rispetto a Bitcoin, questo è il suo ciclo ternario che sta facendo, dovrebbe fare così. Da qui in poi potrebbe iniziare una nuova fase di alzista e qui interviene quello che vi volevo dire. Un break su Binance di questo livello di resistenza 18.2-18.5 mi darebbe un buon ingresso di medio periodo long. Sempre da proteggere, chiaramente parliamo di criptovalute, però perché no? Il mercato ha sbolognato tutta questa sua fase e sta dimostrando anche una certa resistenza. Se quindi dovesse rompere questo livello potremmo avere un'indicazione long di Binance per il medio periodo. Poi dovrebbe affrontare quest'altra resistenza a 22, potrebbe essere un'inversione questa fase di medio-lungo periodo che ragazzi vi ricordo che Binance soltanto poco tempo fa era vicina ai 40 dollari. Quindi entrare su un livello di resistenza intorno ai 18.19 per un'inversione che sembra stia disegnando di medio-lungo periodo potrebbe anche spingere poi i prezzi ragazzi al tentativo di riprendere un trend di questo tipo. Quindi può essere un buon ingresso per un trader. Mi avete chiesto anche delle altre altcoin da andare a monitorare. Una di queste, la più gettonata è Link, ragazzi, l'avete chiesto a tutti. Allora ho pensato che in settimana farò un video di analisi orientato per lo più alle altcoin e guarderemo sia le altcoin verso il dollaro o Tether che sia e sia verso Bitcoin. Per capire anche la forza relativa di alcune altcoin su Bitcoin, sono pochissime, lo sapete. Però ragazzi perché no? Andiamo a fare un po' di analisi tecnica anche su quei mercati. Come sempre ci rivediamo anche in settimana per l'analisi dei mercati finanziari old che stanno ancora spingendo. Di questo ne parleremo nei prossimi video ragazzi anche perché c'è da ragionare nel mercato old su un concetto. Questo covid, questi danni che ha fatto, come sono? Come saranno in futuro? Vi ricordo che la borsa anticipa tutto, aveva già scontato la recessione che vivranno gli Stati Uniti. Questo era ovvio che fosse già lì, ma evidentemente c'è qualcosa che bolle in pentola. Se ho un'idea su questa cosa di cui vorrò rendervi partecipi nel prossimo video. Ciao a tutti e come sempre buon inizio settimana. Ciao!